finisce qua Verona zero Inter cinque l'Inter passa e riprende subito la marcia dopo la sosta Simo è tornata tutta in una volta tutta all'improvviso un po' l'Inter dell'anno scorso perché oggi è un Inter che non subisce gol che domina l'avversario anzi l'Inter dell'anno scorso contro il Verona era stata una partita drammatica eh quella del girone d'andata anche se si giocava a San Silo ma è tornata l'Inter dell'anno scorso perché in realtà si fa sempre questo paragone eh e allora lo ritiriamo fuori anche quando non fa più comodo per le critiche cinque gol con l'Inter che è stata molto cinica nei primissimi minuti ha sofferto qualcosina rischiato nei primi minuti con due occasioni per il Verona poi ha rimesso in sesto le cose e ha trasformato tutte le occasioni che ha avuto nel primo tempo con cinque gol tutti nel primo tempo ha segnato Correa ragazzi ha segnato Correa era uno dei grandi temi di questo prepartita doppietta di Turam gol di De Vrij e poi di Bissec ha avuto straragione Simone Inzaghi in una partita che è stata condotta alla perfezione sia per come è stata interpretata all'inizio per come è stata gestita e poi per come si è arrivato alla fine in una gara che ti permette anche di fare le rotazioni in vista della prossima gara tutto molto bene ad eccezione dell'infortunio di Acerbi che ha anche condizionato poi i cambi durante la gara questi sono i primi temi secondo me da evidenziare in una partita eh che ci ridà un Inter sicuramente molto forte contro un Verona sicuramente in fase difensiva eh tutt'altro che imperforabile anzi decisamente rivedibile un Verona che in casa comunque aveva già battuto Roma e Napoli per citare solo due squadre che comunque sono di di un importante livello Simo? No meglio di così non poteva andare eh il la paura prima della partita era che potesse essere una gara trappola con un Verona spinto dal Bentegodi che aveva avuto qualche giocatore nazionale ma di certo meno dell'Inter un Inter che poteva avere un po' la testa sulla partita di Lipsia che avrebbe dovuto fare delle rotazioni questo dubbio di Correa che ovviamente ha coinvolto le ore precedenti alla partita quindi già la paura era magari di incappare in una in un pareggio per esempio la vinci e addirittura la stravinci consentendo alla squadra di fare i secondi 45 minuti camminando perché la grande fortuna di oggi è che hai fatto tre punti ma li hai fatti giocando metà partita la seconda metà non è successo nulla proprio per questo motivo direi che veramente meglio di così non poteva andare ad eccezione come hai detto bene di Acervi che però confido si sia fermato in tempo visto la reazione che ha avuto però ecco al netto di questo che scopriremo pomeriggio perfetto e non a caso in questo pomeriggio perfetto ci doveva mettere lo zampino anche il tucu che sicuramente è un tema anche per come ha chiuso la partita infatti adesso ne parliamo ma ne parlavamo anche nel club su www.passioninter.club l'ho scritto il nostro domenico io ero d'accordo lo stavo pensando anch'io è tornata l'inter dell'anno scorso in questa partita qui anche perché nel nel primo tempo non ho rivisto comunque un inter troppo diversa dalle altre gare ma a differenza delle altre gare non siamo stati puniti alla prima occasione concessa e allo stesso modo invece siamo stati quasi perfetti in fase di finalizzazione perché a un certo punto come detto c'è stato un dato mi sembra cinque tiri in porta cinque gol sostanzialmente e sette occasioni nitide cinque gol cioè siamo stati un pizzico fortunati dietro perché la traversa di Tengsteth basta un centimetro lì ci eravamo fatti trovare sulla parte sinistra siamo partiti non benissimo in questa partita poi invece dall'altro lato siamo cresciuti bene traversa di correa che ne ha colpite due ha fornito due assist e ha segnato un gran gol quindi partita oggi da migliori in campo direi del tucu che tra poco analizziamo e appunto davanti siamo stati cinici al massimo secondo te Simo è stato un caso è stato un demerito del Verone il fatto che l'inter sia stata così cinica e così precisa o sta cominciando veramente a decollare l'inter come io ho sempre detto che tra ottobre e novembre è il grande periodo dell'inter e i risultati sono nove vittorie due pareggi in undici partite quindi più o meno siamo quasi alla perfezione ma potrebbero essere un po' entrambe le cose l'inter siamo abituati come hai detto a vederla più sprecona che non cinica al massimo però qualche partita ogni tanto con grande cinismo l'abbiamo vista dove capisci subito che funziona tutto che la maggior parte delle azioni le puoi convertire in rete e il Verona sicuramente poca roba a livello difensivo nel primo tempo hanno subito delle azioni da mani dei da mani nei capelli per per un tifoso quindi questo sicuramente contribuito però l'inter è entrata con la testa giusta e poi mi fa sorridere perché quando succede al contrario sembra che vuoi prendere un po' le scuse ma ripensiamo alla partita di oggi se nella prima occasione enorme che ha il Verona con la traversa di Tengstead la palla va in porta magari l'inter vince perché magari fa 3 a 1 la rimonta vince ma non finirebbe ma non sarebbe mai finita in questa maniera al di là del punteggio in sé che non poteva finire 5 a 0 ma non avresti fatto probabilmente 5 gol in mezz'ora e allora il calcio quando diciamo che il calcio a volte è episodico nel senso che cambia tutto questo è l'esempio quando ripeto quando lo dice al contrario in chiave positiva per l'inter e no non si può perché l'inter deve vincere sempre oggi che abbiamo vinto che siamo sereni proviamo a immaginarcelo il Verona fa gol al primo tiro e cominciamo a dire non siamo rientrati con la testa giusta la difesa balla questo non c'è quest'altro non c'è lì prendi la traversa finisce 5 a 0 e ti dimentichi tutto ma questo è anche il bello del calcio però mi sembrava giusto farlo fare oggi in particolare vista la stranezza della partita infatti è quello che io l'anno scorso sottovoce perché se no la gente si arrabbiava dicevo ragazzi siamo fortissimi e ne ero convinto ma le cose stanno anche girando bene perché non riuscivamo a non prendere gol andavamo subito in vantaggio e poi la portavamo a casa quindi sono d'accordo con te sul concetto di episodico anche che poi indirizza le partite comunque grande prova oggi e questo poi aggiunge un altro discorso simo che cioè io adesso mentre lo dicevo nove vittorie due pareggi nelle ultime undici partite per l'inter ho anche pensato ma dai commenti o comunque da quello che ricevo come vibrazioni non mi sembra che si stia vivendo un periodo che invece è quasi perfetto io nove vittorie due pareggi in undici partite me ne ricordo ai tempi di mancini cioè siamo siamo a livelli così o nel periodo dell'anno scorso in cui l'inter poi ha fatto davvero il vuoto per cui facciamo sempre i conti con i risultati che poi sono importantissime stanno arrivando e con una squadra che oggi ha potuto anche gestire le risorse in vista di un ciclo di partite che ci porterà a giocare forse ventinove gare da qui fino alla prossima sosta di marzo parlando della partita poi tocchiamo gli altri temi simo migliori in campo turam o correa in chat c'è questo dibattito tu chi metti no correa perché a parte che entra in tre gol perché fa pure due assist ma poi visto il contesto non giocava titolare da 552 giorni per me lo merita lui turam al terzo posto il signor devrai che è entrato benissimo forse l'avresti detto a freddo gestisce bene fa pure gol un gran gol quindi però la mia classifica è così questi primi tre sì sono d'accordo turam pure fa due gol e un assist perché sul primo gol di correa entra con il bellissimo filtrante mi è piaciuto anche bissac devo dire lì sia in fase difensiva dove comunque abbiamo sofferto di più a sinistra mi è piaciuta molto la collaborazione con darmian che poi magari tratteremo in un contenuto a parte e poi trova un gol che è quasi da attaccante quindi con questo suo movimento da dietro partendo da terzo di difesa che diventa più imprevedibile è un elemento molto molto utile che trova anche un gol molto bello su assist di no su l'assist di asani a perde frai volevo arrivare a parlare di asani che era un altro dei grandi temi simo di questa partita mancavano lautaro e c'è stato un grande correa da migliore in campo mancava ciala c'è stato un aslani da una buona partita poi ripeto abbiamo giocato 45 minuti quindi anche per questo è difficile poi dare un giudizio però partita normale non ha le caratteristiche di ciala quella velocità che ciala ti dà nel far girare il pallone non ce l'ha aslani però non possiamo ripeterlo ogni volta come una colpa sono caratteristiche oggi ha gestito bene secondo me si ha gestito bene l'ho visto interpretare il ruolo in maniera anche un po' diversa da ciala nel senso che ciala si abbassa molto di più tra i difensori poi ne parleremo magari nell'analisi più tattica e però anche in fase interdizione oggi l'ho visto più presente arrivava da due buone partite con la nazionale dopo l'infortunio quest'anno è stato anche molto sfortunato questa cosa viene spesso sottovalutata che quando è mancato ciala lui non è stato bene oggi finalmente si è potuto giocare la sua occasione l'inter ha girato bene sicuramente lo ha aiutato e come ho sempre detto un conto è vederlo con frattesi o classe in accanto come era avvenuto l'anno scorso un conto è vederlo con michitaria neparella che che è tutta un'altra cosa quindi oggi è una partita che sicuramente rimette più persone sul carro di aslani rimette anche più fish nella fiducia di un in zaghi che simo io non vorrei aggiungere tanto altro in questa partita perché poi faremo anche un altro contenuto a parte però si sono lette tante cose nel pre partita anche se poi la nostra community che è sana moderata e competente quando abbiamo fatto il gioco pre partita aveva confermato tutte le scelte di in zaghi in in questo momento la notizia importante che ci esce comunque da questa gara è che sta tenendo veramente tutti sul pezzo poi durante la partita abbiamo visto tanti ma perché non entra palasios e ma perché non gioca joseph martinez intanto perché il regolamento prevede 11 in campo e 5 cambi quindi non possono giocare in 22 altrimenti diventa un po difficile e però ecco mi sembra che stia cercando davvero di tenere tutti sul pezzo sono contento che correa abbia potuto finire la partita perché almeno è anche lo stesso aslani quindi bene per per tenere anche loro dentro e non so se sei d'accordo anche tu qualcuno dice però in difesa con una cerbica adesso si ferma potevi risparmiare anche devrai alla fine beh sì ma questo è un discorso che non troverà mai una fine perché se avesse se avesse fatto tutti quei cambi altrettanti tifosi avrebbero detto perché non ha fatto quelli che invece poi nella realtà ha fatto come detto prima si gioca in 16 io mi immagino i tifosi del city con guardiola che possono recriminare per panchinari ancora più forti cioè ha praticamente due squadre titolari quindi immaginiamoci loro no in zaghi l'ha letta benissimo e quel discorso che hai detto prima del gruppo è una cosa su cui ho insistito molto oggi ma anche nelle scorse dirette perché il tifoso chiaramente non si pone di questi problemi dice a me correa fa schifo non deve più mettere la maia dell'inter punto e i demar nautovic e così via se fai l'allenatore se sei a capo di un gruppo che poi di base è un gruppo sano secondo me è un grande lato positivo il fatto che tu non faccia il dittatore e mandi fuori rosa i giocatori a meno che non ce ne sia bisogno ma non è questo il caso e oggi in zaghi ci ha dimostrato con correa che in alcune partite in alcuni specifici momenti perché no la domanda è perché no poi se avesse fatto schifo c'era in panchina del materiale per poterlo sostituire però la realtà di fatti che lo mette in campo e diventa il migliore in campo allora chi lo sa che da qui in avanti non lo si possa ritrovare dipenderà da lui chiaramente perché è soprattutto una roba sua quella di di essere utile però oggi ha messo il primo semino i primi buoni presupposti leggo alcuni commenti e poi chiudiamo questa clip ringrazio di cuore il nostro Emanuele che chiama raccolta i like per noi e se lo meritano grazie davvero di cuore Emanuele per il grande supporto e per aver richiesto i like grazie mille Emanuele grazie a C che ci sostiene sempre a fine partita buona gestione ma avrei preferito il secondo portiere quindi ecco il tema Martinez che torna Martinez che rimane l'unico giocatore a non aver ancora debuttato in in questo campionato Siknes grazie di cuore Siknes comunque se questo è il nostro quinto attaccante ecco è il quinto attaccante Correa beh allora prima di questa partita ti avrei detto di sì dopo questa partita al netto del fatto che chiaramente servono conferme secondo me almeno il quarto perché adesso il sorpasso su Arnautovis potrebbe averlo fatto poi vedremo il tuco ha messo la freccia quindi il tuco ha messo la freccia Franco Marelli grazie Franco davvero di cuore grande partita prova di forza senza senza Ciala e Lautaro ma il tuco se è capace di partire così perché ci fa soffrire tanto bis è affidabile già da un po bene le Vrai e Turam assolutamente da trattenere grazie loro e Simo grazie a te davvero di cuore grazie al nostro mitico Franco chiudiamo qui la nostra clip poi a parte faremo tutti i nostri contenuti approfondimenti le pagelle e non soltanto chiaramente il nostro club www.passioneinter.club grazie Simo vi rinvito anche ad iscrivervi al canale vi basta fare clic sul tasto